Mi chiamo Clarida Oxa, sono infermiera e lavoro al centro iperbarico di Ravenna dal 2010. Mi occupo principalmente della cura delle ferite difficili e ho deciso anche di seguire un master in burnologia presso l'Università di Torino. Oltre alle ferite difficili mi occupo anche di assistenza in camera iperbarica. I pazienti che scrivono al blog del centro iperbarico di Ravenna possono rivolgersi a me per qualsiasi dubbio, domanda o curiosità che riguarda sia le ferite difficili che l'assistenza in camera iperbarica.